Che posso dire, ribadire, è che noi abbiamo un progetto molto chiaro, che abbiamo spiegato più volte. Noi vogliamo cambiare le regole, ma finché le regole non vengono cambiate le rispettiamo. Noi pensiamo che sia un errore questa cultura dell'austerity che sta continuando a fare del male all'Europa. E diciamo che il modello americano di Obama ha funzionato, il modello dell'austerity dell'Europa non ha funzionato. Noi diciamo questo. Tuttavia, siccome i miei predecessori, i nostri leader dei governi precedenti, hanno firmato delle carte che sono vincolanti e impegnative, la reputazione dell'Italia è per noi un punto importante. Quindi continua a scendere il deficit, continua ad essere più forte l'attenzione ai conti da parte dell'Italia, ma contemporaneamente cerchiamo di ritagliarci tutti quegli spazi per fare misure di investimento sull'economia a partire dalla grande misura dell'industria 4.0 che Carlo Calenda ha espresso e spiegato molto bene nel corso di queste settimane.